Possiamo mangiare anche noi o ti offendi? No, no, potete mangiare, potete mangiare No, 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 no Ho sempre sognato di essere un serpentello E potermi insinuare in ogni buco che incontro Sì E non solo, oggi potremmo anche scegliere che tipo di serpente possiamo essere Sceglie questo Quello bianco, giallo, verde, ognolo Nero Lo voglio spelacchiato Che meraviglia, che meraviglia Poco serpente, allora entriamo subito, diventiamo Poi ci diamo un'occhiata, poi dopo torniamo qua e scioppiamo Perché a noi ci piace di sciopare Sì, sciopare i serpenti Che bello Che schiva È una coduria Anna non è contenta No, non posso toccare Fermi ragazzi, fermi, che bello Alex ha già mangiato Sei un porco Sei un porco Sei una scrofa del cibo Devo scrofare come la peggio scrofa del mondo Ma trattieniti, no No, non c'è Ma è impossibile Lion, ma quanto sei lungo Tu hai magnato pure Perché ti vedo tre Tre, come Alex Allora io, c'è una punizione Lo vedi stregato come è piccolo e cortino? Ma io ho mangiato tantissimo Perché sono corto? Zitto stregato, zitto Lo vedi come è piccolo e cortino, Chico? È molto cortino Ti sei magnato Mi ha mangiato Sto ritornando amici Sto ricercando Lui è lui che è Perché io ho visto Che ti entra Ma cosa Senti ma io ho capito che sei una scimmia E che non hai Un pollice opponibile Ma almeno l'istinto in sopravenza Di non entrare in bocca ai predatori Ce l'hai? Non ce l'ho A proposito di entrare in bocca ai predatori Eccolo No Tua madre è un predatore Quello schifoso Con la pelle tutta unta Dell'estetista Può uscire Della camera Di mia madre E lei mi ha detto Che stavano solo Applicando la crema idratante Eh ed era Tua madre era coperta Di una specie di crema bianchiccia? Sì Ma come lo sai? Era crema idratante Era la crema solare E per la pelle Ragazzi io mi sto allungando Come un drago Possiamo mangiare anche noi O ti offendi? No no Potete mangiare Potete mangiare No 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 Non ridete Tutto mangiato Non c'hai più niente Non c'hai più niente Non c'hai più niente Non è divertente No No Ma Anna Era buono Anna ma se tu mi provi a mangiare il dietro Per esempio Prova Ora sono più grande di te No io non ci posso credere Anna No Ferma Ferma Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Aspetta Aspetta Mangiami ti prego Ti prego Qualcosa Anna prova a mangiucchiare la coda mia Ryan è troppo grosso No 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 Sei molto grosso effettivamente Grazie Grazie Sei onnipotente Fai prova a mangiucchiare tu un pezzettino di coda No No Non puoi Non ti mangiare la tua è troppo grossa Sei troppo grosso fratello No Ryan ma c'è il pulsante Vendita E se tu lo premi ti sciocchi tutto il negozio Ryan è scatto ma c'è cosa deve mangiare No No Non ti serpente Ti ho mangiato il serpente Adesso non ridi più eh No Non ti serpente Che legali Ryan mangiami Mangiami Vendicati Silenzio Silenzio Cos'hai fatto Ti ho mangiato il serpente Sì Hai capito bene Mi hai ricresciuto però Sono stato proprio io No E adesso E adesso E adesso Come la No 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 Vieni qua Vieni qua Che tepetone che sei Come sono lungo È veramente una lunghezza Come strisciuto non c'è nessuno Mi permetto di correggerti Perché tua madre per esempio Quando va con il domatore di leoni Perché Cosa Il domatore Il domatore di leoni è un po' bocciato Quindi tua madre si striscia Ma fa tipo Ah prendimi Sono la tua focca monaca Ma 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 E tua madre è proprio Ma fa le acrobazie Mia madre Eh certo Salta nel cerchio Ma C'è 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 Comunque più sei corto Più corri veloce Hai visto Stray Mamma mia Sarò il più veloce Del far west Ho pure lo sprint Perché tu Come Lunghezza E poi mi insinuo ovunque Sono fortissimo Un buco profondo Ma tu La tua tana Ah mi insinuo Andiamo tutti Dove porta Eh questa porta nel budello Della mamma di strecata No Ma quale una chef Prepara spesso il budello Alla tripa alla romana Non si è bravo Ah mangio anche questi topolini Io un pochino qua E un pochino là Però ragazzi Eh mi sembra Oh Mamma mia Ti stava mangiando Cico E ti ha protetto Quest'aura fantastica No Ti prendo ai Mi ha masticato la coda Ma non è divertente così Però Stavo dicendo Sarebbe ora di aprire il negozio Un po' per tutti Eh Ah dobbiamo scioccare Cosa facciamo Non sciocchiamo niente Ma no Un vaso al ventino Allora Vedo che ci sono diverse cose Mamma mia No Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Che cosa vedono i miei Così subito Allora C'è un VIP Dice Con la corona Qua lo compro anche io Ce lo compriamo insieme E tu Va benissimo Va benissimo Vai 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 Compriamocelo insieme VIP 2 239 Robux Per accendere Alla zona VIP Poi bellissimo Questo Mi sembra un acquisto Eccezionale Troppi voltaggi Oh ma ho comprato Adesso tra un attimo Andiamo insieme Però prima Stavo guardando un'altra cosa Alex Oh Ma Mario Ma tu l'hai vista C'è la mega incubazione Fortunata Esattamente E' proprio Ma c'è una incubazione Fortunata Ce ne sono due Però Secondo me Te ne privi Io comprerei solo la mega A questo punto No ma che fai No 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 Perché se tu ne compri entrambe Accumula Si fondono E c'è la cosa Fortunata Grazie mille Grazie mille No lui Ho capito No 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 basta No basta Il reporto Basta E' il gioco E' il gioco Adesso io e Fe che siamo vips Possiamo andare nella zona superi Ma potete andare Nell'area vipo Ho visto che ci sono animali giganti Là dentro Fe ci vado prima io Però hey Che il terreno di caccia Bisogna rispettare le priorità Ma tu lo sai Che il secondo nome di mia madre è l'incantatrice di serpenti come mai? perché ogni sera si sente una melodia che canta una persona e cosa fa questa melodia scusa? eh attizza i serpenti che bagliano tutti per lei ma fe scusami un attimo eh anche tu noti qualcosa di strano io noto che abbiamo pagato 5 euro per entrare in un quadratino giallo con dentro 4 cagate così guarda quanto stai crescendo e non solo fratello non ci doveva dare pure una skin di un serpente dorato a destra vedi che c'è skin col tastino col serpente pura vedi per caso ma ma io non vedo nulla sei figo sei tape ma tu sei sicuro che era promessa fammi controllare è la bella che promessa dice zona vip è una skin speciale e non c'è e non è la mia skin scusa non c'è la nostra skin però sei speciale tu dentro di te ma anche prima ero però non è che avevo bisogno magari devi schioppare sei dorato dentro allora ragazzi però però una skin bisogna prenderla tutti perché a me non mi piace che siamo tutti uguali e mi sento triste ma prima dai io andavo a comprare la mega ultra fortuna eh sì così riesce una skin rara si può anche scambiare lo sai che si può scambiare bellissimo oh che bello così se a uno non ci piace la skin ma stregato sta dormendo scusa mi dispiace ma cosa sei ma cosa sei lurido apri il negozio dubito non tu stai tu non ti sei gustoso meglio tu qualsiasi skin è il buttarla poi vedi che c'è un pacchetto enorme quale è quello ah 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 ma è tanto prendi il pacchetto enorme mille scusa mille te la sei cercata eh eri addormentato da un'ora ti permetti di farlo ma guarda no sono vicido sono un serpente anzi un verme sto essendo ho capito che la tua vocetta è fastidiosa e schifosa ma compra quel pacchetto enorme così potrai essere enorme una volta nella vita e tu muori va bene ma basta ma basta compra stregato l'ho scioppato ma non mi sento enorme mi sa che ti può spendere come devi spendere l'hai comprato è perché si si te lo giuro te lo giuro e beh ora c'hai mille cose 60.000 teschi 60.000 che bello wow enorme sono un predatore potente è in alto a destra ah no perché quella è un'altra cosa va bene quelli sono i soldini per comprare le uova e a cosa ah per le uova sì e ma quelle all'inizio perché qua costano di robux sì esatto e come facciamo a tornare all'inizio e muri no dai per forza muori aspetta che mi mangio stregato ma cosa hai fatto ho mangiato ciclo no ora sono più sazio che puoi mangiare è più buono dillo vai a spendere i tuoi soldini mi raccomando solo uno devi comprarne solo uno gli altri che hai li tienili anche perché ne ve ne permetto solo uno costa 50.000 porca trota e allora casomai dopo mi fai vedere da mano mia la bella skin che ti esce va bene intanto noi ragazzi e andiamo anche noi nel negozio ci compriamo un uovetto un uovetto vedete è bellissimo quello mitico però Anna invece si prende quello cyborg va bene che costa di meno va bene mi piace ci piace a tutti c'era Red c'è l'uovo galattico nel uovo mitico c'è la skin galattica non vedo l'ora di cavallo compratene tre tu tre intanto ho visto che parli dai fastidio tre va bene di quelli mitici si si li sto comprando ma a me piace il cyborg non so perché no perché costa di meno comprati quello mitico a non cagare la minchia vai 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 tranquillo tranquillo allora vediamo vediamo un po' ragazzi adesso vi chiedo io cosa vi è uscito allora meraviglioso ecco il mio fa proprio cagare è ghiacciato ecco qua epico però eh non è il peggio almeno il tuo è epico oh mio dio oh mio dio aspetta aspetta chiedo io allora venite tutti qua con le rispettive skin aggrumatevi stre potevi essere un po' più grande però almeno mamma mia eh ma papi un attimo torno subito papi papi che non te lo dico io cosa papi stai andando in giro non stai concludendo nulla scusa i topi sono lontani mi scappano da me perché faccio schifo vabbè allora cico fammi vedere la tua dai oh mio dio sei pronto ho rifatti gli occhi BANG ma che bravo cico cico toglila 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 aspetta aspetta stai zizzo fermo fermo aspetta aspetta toglila ne esistono solo 600 ok aspetta allora facciamo un scan fammela vedere da mano un attimo no aspetta ti do questa io eh perché comunque non è che non metto niente cosa vuoi non esistono più di mille ecco qui che ne sai tu vabbè poi me la ridai 1200 ne esistono della tua sece me la ridai poi non è che è così diverso comunque vabbè non ti piace allora va bene dammela tua e io non ti do niente poi te la ridai vabbè poi me la ridai certo voglio farti vedere la mia poi adesso ragazzi che fortuna la vediamo da mano mia che ci piace più accettare esatto accettiamo ok guarda mamma mia sei proprio il serpente più figo del mondo ecco qua che figata no perché mi hai mandato un tradeino ripassa cosa cosa oh non iniziare rinami la skin guarda che muto i trade muto i trade oh oh rimandami lo scambio aspetta un attimo aspetta oh non insistere però aspetta tra un attimo che dovevo vedere le skin oh se spammi ti segnalo eh stregato metti la tua vediamo che cosa mia madre vuole rinunciare a me perché si vergogna di avere un figlio con la cota così piccola non è colpa mia se non sono un'anaconda come il postino e guarda sta skin bella bella toglila un attimo che la vorrei vedere da mano mia ma più grande è meglio quindi te la do volentieri eh infatti infatti è come se io avessi bisogno che tu me la dessi volentieri ma assolutamente ce ne sono solo 87 in tutto il mondo oh chico hai visto hai visto 87 87 il mythical no 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 dammi quella no cosa sei ma chi sei ma facciamo questo scambio a te piaceva la mia ma che bello che sei ma che bello mamma mia allungati un po allungati mamma mia guardate che sing 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 snake serpent very good red facci vedere le tue la più bella la più bella la più bella la più bella è questa qui ma che schifo ma cos'è che schifo e le altre è una cosa peggiore eh ne ho trovato due di questo mamma mia aspetta ti mangio ok allora Anna tu che cosa hai ottenuto è io quella più base vabbè magari mamma mia è uguale identica Anna aspetta ci penso io a te ci penso io a te allora no 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 Anna Anna vuoi quello tossico lo provi no no non me lo mette a posto dai lo provi tossico ti do questa qui galattica che non so da dove mi è arrivata la seria oh la seria però di quello sì però di una cosa sono sicuro che ormai è mia questa quindi posso gestirla bella ti do molto Anna grazie allora ciclo scusa però ciclo hai rotto le palle devi stare zitto un po' ma che lo mangio? no allora Fai vedere la tua eh lion guarda la mia è proprio misera e povera ma rimetti la quella di prima è quella è quella lì è uguale è uguale è quella di Anna identica sei un poco scuro poco è un poco quella mia era più brillante perché è tossico hai stregato perché è azzurro perché io mi è uscito uno scudo da sotto il sederino e l'ho preso vuoi farti mangiare da te che schifo Alex Now no ma perché poi aspetto la mia schifo io non vorrei dire ma io sono un rio qua che ha sciopato 500 robos di fortuna e me lo sia sta cagando no non ci credo è più comune è più scuro e basta è quella di Fè cosa devo fare se non impazzire al momento istantaneamente prendine un altro ma cosa prendine un altro no non possiamo cioè cazzo te hai comprato la mega fortuna eh ma laio ma esce quella non esce quella abbiamo la mega fortuna Alex siamo un mega fortuna sto piangendo vai 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 subito comunque le skin dell'uovo cyber sono più belle va bene non ci può ho trovato quella leggermente più fortunata eh vai quella bianca come la mia esatto e metti laio però non è giusto io l'ho pagata tantissimo ok raga ok raga abbiamo finito di far vedere le skin si riportiamo tutti indietro per favore ridiamoci le skin no ma è costata tanto a parte scusa io non ce l'ho più quindi come faccio a ridarte Anna ridaci la skin no allora non si chiedono le cose indietro le persone no che cosa orribile allora cico cico vieni subito bannato eh mi pensa in colpa no Anna ci penso io a lui ci penso io lo giustisco io sono miserabile allora aspetta perché bisogna venire incontro alle esigenze di tutti eh allora se ho capito bene tu sei triste perché era la tua unica skin e quindi non ce l'hai più esattamente e quindi sei senza ora giusto si quindi praticamente il problema gira attorno al fatto che tu non hai un'altra skin se possiamo dire la cosa no no dai zitto mi hai sembrato anche a me in realtà quel è il problema ecco è quello ti senti solo senti solo che non hai la skin compra un'altra no che generoso dai dai apri il negozio allora comprare questa qui che ti esce però se vuoi puoi comprare anche il primo uovo che costa di meno lo sai va bene va bene dai oh bisogna essere impegnati per sottosviluppare anche come serpente ma basta io crescerò e sarò grandissimo come il pizzaiolo oh no oh non ho più la codina no dai ma io ho una domanda importante le fai le uova l'ho preso stai apri il negozio che schifo che schifo che schifo che mortuno volgare una volta faccio comprare altre centomila gemme ma ti spiego ti scongiuro dai cico fai vedere fai vedere cosa ti è uscito guardami è questa qui dietro di te ma è uguale a quella di prima di red di me di ghiaccio è quella lì che è spermerpente no però non è la più comune è fantasma è bello ho scoperto che il problema era che voglio la mia non un'altra basta eh non me ne frega un cavolo no no ma 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 basta è totalmente non influente quello che hai detto al momento strema ma ce n'erano anche di migliori in quell'uovo da 50.000 sì purtroppo sì però quella lì era la seconda più rara ah beh quindi hai avuto fortuna pure sì più di Alex ma com'è possibile io ho pagato 500 di albux fortuna eh ma com'è ma com'è possibile spiegami subito non mi mangiare che ogni volta che io compro fortuna sono più stigata di prima vai via no nom 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 il cavolo nom nom dicolo ceco dicolo ceco nom nom vai mangelo tutto basta è un momento grandone ma che vuoi Alex premo la vendetta no non premi niente non ho premuto non premi proprio niente molto minaccioso invece sai che cosa premi il negozio il negozio premi no 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 ah attenzione però ragazzi aspetta abbiamo un reward più di uno tre adesso possiamo prenderli tutti un cazzo bello no mi dava soldini per prendere le nuove mi ho preso un'altra ma sembra una cosa strana non voglio dire cosa no ora sembro corto sembri un escremento per caso no che schifo che schifo perché se quello è il problema ti dico che anche prima no è inservibile ma 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 devo sperare ma secondo me ormai è la tua vita è troppo tardi dici no ah guarda come sono bello lungo io eh pazzesco stre allora servirebbe il contenuto ancora perché abbiamo esaurito il contenuto e la modalità quindi stre prendo un'altra schiena ancora eh secondo me conviene una di quelle lascio fare ma eh no ma io e i soldini mi lasciano poi vabbè ma non da 50.000 e da quale eh ce n'è anche altre no quale prendi quanto viene c'è da 3.000 eh quella 3.000 può essere bella ecco è più che un'est va bene dai dammi la fortuna la sento che così magari la puoi anche scambiare con qualcuno chiedi se c'è qualcuno che te ne dà una bella in casa chi è che non ne ha una fè tipo poverazzo eh io ne ho una molto brutta molto brutta molto brutta c'è Cico che Cico ce l'ha no è bianchiccio sì ce l'ho però non mi piace voglio un'altra ma non mi importa arrivo con la nuova skin vieni Cico che ti do una skin ah no lo scudo che schifo come ti permetti di prendere lo scudo se mi mangi io io impazzisco e io sto guardando veramente mi sto impegnando per mangiare ti prego si si hai comprato non lascio la collina c'è mia madre no te sei mangiato questo bastardo te ha mangiato no no eh come ti sei permesso di mangiarti Alex tutto quanto me mangio fe non mi prenderà ma oh come ti permetti di mangiare mangiarti gli altre persone venite qui vieni qua vieni qua vieni qua che riesce alla punta della coda dalla testa fermati bastardo guarda si sta a mangiare a tutti sto miserabile vieni qua non ti faccio niente vai fermati mi fermo anch'io non ti faccio niente vieni qua che non ti faccio niente ma è vero mi sto raggiungendo ma non ti faccio niente vieni che non ti faccio niente no ok ah fa cura no strei dai veloce facci vedere guarda la nuova skin adesso la tiro fuori si è fiammeggiante si chiama ma è uguale a prima è bellina però è proprio carina 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 ragazzi è stato divertente essere degli snacks sì sì molto bello per oggi ci fermiamo è lion out ciao